Puntata scoppiettante quella di ieri 31 gennaio 2022 del grande fratello Pip in particolare tre donne o meglio tre donne si e un uomo vanno in nomination si tratta di Manila, di Katia, di Delia e di Davide sono questi in totale i quattro nomi che vanno in nomination ripeto tre donne e un uomo in palio vi ricordo che c'è la finale che ci sarà a breve Gian Maria va ad abbandonare la casa del grande fratello è un duro colpo verso l'estorcio che non soltanto vi ricordo non è la preferita del pubblico ma ben due rivali, chiamiamoli rivali, davanti a lei via Giudanelli nella casa resterà anche la notte per fare una piacevolissima sorpresa a Miliana Trevisan per la settimana di Sanremo 2022, quella in corso il grande fratello Pip ovviamente si va a fermare e tornerà lunedì prossimo che sarà per l'appunto una serata ovviamente molto molto piacevole ripeto si blocca il GF VIP proprio per il fatto che c'è Sanremo il festival della canzone italiana per eccellenza vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi iscrivetevi, commentate, un saluto caro da Leandro e al prossimo video iscrivetevi, commentate, un saluto caro di questo video? iscrivetevi, commentate, un saluto caro di questo video?